Bene ragazzi e bentornati sul mio canale, stiamo qui oggi con questo nuovo video Oggi ragazzi si parte col botto, perché oggi si parte subito la partita con home Difatti giocheremo in contemporanea, così sappiamo il risultato subito entrambe E niente ragazzi, lasciate subito un bel mi piace e partiamo con questo nuovo episodio Daglie! Una partita fondamentale per tutti e due Eh sì Nessuno e due è sotto il ritiro, ce lo siamo detti, abbiamo detto giochiamo alla pari senza usare il ritiro E niente ragazzi, andiamo a vedere la partita com'è andata Ok, ci siamo Tati, andiamo subito a vedere le informazioni qua nello studio di Osma Allora, nessuno e due è andato in ritiro, io sono quarto, sei sesto, ok perfetto Siamo lì comunque Esatto, ho due punti inizialmente Eh può essere Io sono a 18 Guarda lì, le squadre stellari Che squadre ragazzi, le squadre è pazzescamente incredibile, forse ho dei giocatori proprio farti io Tutti sopra il 110 tranne la porta, sì Ho dovuto mettere poi qualcuno che aveva tipo la... No, il morale Il morale è basto, tu lo metti in campo che magari capisci Magari spinge di più Ok, andiamo avanti Vediamo un po' come va questa partita Speriamo bene Questi dicono le stesse cose, quindi li schippiamo Ok, iniziato da tiri Ecco, parti subito Un cartellino, no, cartellino Ah, cartellino Sì, sì, cartellino State attento da Tio, smande, è bene Niente da fare, porca miseria Ragazzi, un amico, ve l'ho sempre perso con lui, ho pareggiato al massimo Eh, magari fai il risultato di una partita ufficiale, pensate Eh, Mappé non viene marcato e riesce a ripienare Mala di testa Se segnalo l'insulto, ragazzi Sul calcio d'angolo, Mappé, attenzione Mamma mia Una pressione del diavolo, ma Mappé riesce ad attaccare il pallone sul calcio d'angolo Ma perché c'è il regano, eh Attenzione, chi non Mappé Chi non è con la maglia del PSG Perché c'ho sta maglia Che poi esatto, Mappé ragazzi Un giorno tatino video sul mercato Mi dice, oh, ma c'è un Mappé sul mercato Lo vuoi prendere? Ok Se mi dico che c'è il milione, ho detto, vai, compralo Intanto c'è l'altro di rotati, niente da fare, ok Vabbè, con levata non penso, però Mi fa bene anche l'1-0 Eh, fatti, sì, tre punti, tanto Dio Esatto Fantastico, scambio tra Dembélé e Martial Martial ora può tirare Martial è il giocatore più forte che ho, tatino Però ho sbagliato Però ho sbagliato Infatti Dai, finito il primo tempo, dai, su Ok Ok, finito il primo tempo Cosa ne pensi? Cotto di crude come sempre Eh, ho fatto un tiro, l'ho fatto Va bene così, tatigrande Che è successo? Cansella la poggia di testa a Rodri che riesce a colpire la di testa verso la porta No, non dire il nano, dai Non dire il nano, non può tirare Ah, cansella, mi sa che la poggia... Madonna mia Fatti è il nano, Rodri Oddio Oddio Hazard è la posizione del tirale Hazard è più forte che Hazard, ti prego Ti prego Eden Hazard No Dai, non potevi fare un gol, un tiro, un gol Eh, vabbè, lo script sono fuori casa Ah, quello sì Oh, oh, oh Bayley non viene marcato probabilmente, riesce a colpire la palla di testa Ti prego, Bayley, anche tu sei il più forte che ho, è il secondo più forte che ho No, Bayley, ti prego Oddio Meno male Bayley e Hazard sei più forte che ho Dai ragazzi, dai No Ottimo passaggio indietro di Kimmich Mbappé Ha la possibilità di tirare Giuro che te lo scarto sto Mbappé Comunque Mbappé ha fatto il primo gol contro di te, eh Madonna mia Stavo per, volevo urlare E anche il secondo Dai Invece no Cioè io l'ho fatto comprare io Mbappé, regà Eh, ti ho colgato lì Però mancano diecini di Tati, eh Cambio Entra le mare Esce Dembele 89esimo 90esimo 91 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Alla classifica come è cambiata Tati? Eh come è cambiata Ok oddio Ah due amichevole prima Due amichevoli Sì due amichevole di far Vai contro di me Vai Tati amichevole contro di te Vai Vediamo un po' come viene 0-0 vedi Potevi farlo in campionato E invece l'hai fatto Vabbè Contro Un po' In amichevole Poi facciamola con Tony Vittoria assicurata Vediamo un po' Non è detto Ok 1-0 vedi Proprio al limite Quello che bastava Comunque ragazzi Continuiamo a fare I vostri amichevoli E i nostri allenamenti La prossima partita sarà Contro Exet Stiamo attenti Vediamo la classifica Abbiamo 4 ritiri Su 5 partite Ragazzi Posso usare 4 ritiri Esattamente Guarda prima la squadra Grazie Exet è qua A 19 punti Ed è quinto Quindi comunque Non da sottovalutare E' più forte la mia Cioè non c'è proprio dubbio 4 giocatori Anche la mia supporta Però Esatto Però il gioco è il gioco Quindi ragazzi Ci vediamo tra pochissimo Con la prossima partita Bella Ragazzi Secondo episodio Siamo contro No Luca Ha dato il ritiro Però noi siamo in casa Raga Lui è andato in ritiro Speriamo bene Abbiamo la formazione Nettamente più forte Ho fatto però un po' di turnover Perché erano stanchi O dunque Col morale Un po' così così Allora l'ho messi Andiamo subito con questa partita Siamo in casa Vamos Birsa spreca Gabbiadini spreca Però Vediamo un po' Stanno mettendo dentro Subito No Bailey spreca Però attenzione Hakimi Giallo Non ci credo Gabbiadini Non ci voglio credere Dai un tiro un gol No Dai 2 a 0 No No Non ci voglio credere No Era andato pure il ritiro Pure lui È vero Però Dai 2 tiri 2 gol No Dai ragazzi Siamo in casa però Vedes ti prego Mettila dentro Ti prego No Regà Vabbè lui 2 tiri 2 gol Io tiro Non segno Ma cos'è Vai Hakimi Ti prego Mettila di testa Sì Dai Recuperiamola Giallo Romagnoli Finisce il primo tempo Ragazzi però Cioè lui 2 tiri 2 gol E non riesco a segnare Ma cos'è Oh Dai ti prego Rivaltiamola Azione veloce Ti prego 2 a 2 Dai 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 Sì Sì Dai 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 2 a 2 Bailey Ottimo cross Subito 3 1 Ti prego Mettila dentro Mettila dentro Sì 3 a 2 Dai Ripaltata 3 ripaltata Bailey Ti prego Metti azarda adesso Fai i cambi Buttale in mezzo 4 a 2 Ti prego Ti prego No Era ottimo Il 4 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Godo 3 a 2 Ripaltata Ripaltata E cazzo Vi ho addominato L'ha fatto due tiri Dai Ripaltata Godo E andiamo a vedere subito La classifica Siamo sempre sesti Tra l'altro Attenzione Kevin De Bruyne Passa primo Cioè home No mi ho fatto un assist Sei primo Anche più svince Sono libero 19-20 21-22 Cazzo Devo vincere anche la prossima Siamo tutti lì ragazzi Siamo tutti lì Andrò a mettere la migliore formazione Raga Oltre si caldone Metterò la migliore formazione Qui non avevo messo la migliore Avevo lasciato Asar di panchina Avevo lasciato Lasato Avevo lasciato Chiavel Christensen Comunque Non avevo messo i migliori 2-3 L'ho lasciato fuori Però Prossimo episodio ragazzi C'è prossimo episodio Prossima partita Dobbiamo vincere Per salire sempre ancora di più Dai Ci richiamo nella prossima partita Bella raga Comunque Bella vittoria Ok ragazzi Eccoci tornati Con l'ultima partita Di questo episodio Siamo contro Siamo contro Siccaldone Fuori casa Non è andato in ritiro Meno male Io ho messo la miglior formazione Che ho disponibile Quindi guardatela Già È la miglior formazione disponibile Che ho Andiamo Siamo fuori casa Speriamo bene ragazzi Ho messo stavolta tattica Passaggio lungo Siamo fuori casa Speriamo bene Ci parte subito Alla grande Dai dimmi di sì No Occasione sprecata Per Eden Hazard Però ragazzi Quelle No Dai dai De Vrij cosa ha in testa Giallo per De Vrij Che l'ho appena comprato Tra l'altro L'ho venduto al B.O.L.R.T 1 a 0 Subito Con C.Well O C.Well Chiamatelo come volete Ti prego no Il pareggio subito Con un tiro no Meno male Ducla scosta c'ha lui Mamma mia Ducla scosta Dammi 2 a 0 Sì 2 a 0 Dai 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 Chi l'ha segnata Baccaioco 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 Lotta per la curva E per Tatino Non fa così Vabbè dettagli Dai 2 a 0 Fuori casa Ottimo Ottimo Vabbè con la miglior formazione Raga non posso perdere Dai Ragazzi finisce qua Il primo tempo 2 a 0 E sono fuori casa Andiamo subito Nel secondo tempo Dai 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 Cannaggia Hazard spreca Sanè spreca Neymar spreca Sanè si libera Oddio Meno male No 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 La riapre con Arthur Ti prego Dimmi che non me la pareggio Se no bestemmio Eccolo Vabbè Ma vaffanculo però Che cazzo Ah 2 tiri 2 gol Che palle Ragazzi sveglia Dai ragazzi Non posso perdere Ma come non si sono capiti Ma santo dio Dai pareggiamo Ma no Ma no Ma no Ma no 2 a 2 Ma no Dai Era partito bene Una sconfitta Una vittoria E un pareggio Annaggia Sto episodio Andiamo alla classifica Dai guarda lì Mi hanno lasciato dietro Sono sesto Ma dai Però vabbè Vabbè un cavolo Vabbè Quelli stanno a 25 A 20 Dai raga Non lo so Non lo so come andrà a finire Raga Siamo ancora lì In realtà Però Allora andiamo a vedere Il calendario Un attimo Allora mancano 1 2 3 partite Ragazzi Non so neanche Se arrivo Nei primi 3 Mannaggia Però sono contro mezzo Contro Tony Contro Exet Allora Raga Speriamo bene Vado a fare 9 punti Devo farle 3 su 3 Non sarà facile Ma ce la devo fare Andiamo a fare qualche allenamento No allenamento Vabbè Intanto alleniamo Questi ragazzoli qua Allora Intanto Formazione Avevo messo la migliore Dai Ho pareggiato Potevo vincerla Quella Amichevoli Andiamo a farle Allora Di contro di bala Vai Oppure i coins per le amichevole 3 a 1 Amichevole Però in campionato Contro Gabbo Me perdo sempre Contro Gareth Bale Vediamo un po' Che sarebbe proprio Lui che ha appena vareggiato Tanto Bale arriva 1 a 1 di nuovo Pazzesco Pareggio sempre ormai Ultima amichevole Vediamo un po' Di giornata E facciamo 1 a 0 Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Cioè l'ultimo episodio Prossima partita Siamo contro Cristiano Ronaldo Ragazzi Lui c'ha Cazzo che squadra anche lui C'ha uno squadrone Anche lui Però Valore di rosa 600 milioni Ragazzi Il mio valore di rosa Invece si aggira al doppio Quindi vabbè Se perdo ragazzi Vabbè Comunque Tattatine è tutto Spacchete i like Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Un prossimo video Però ragazzi Fino alla fine Fino alla fine Questa paio Non si può dire Però vabbè Givetevi al canale